Ho finito con la tua banda. Adesso è arrivato il tuo turno, testa a testa. Puoi guidare o restare a parlare? È il momento! Dovrò riverniciarla. Non si può fare il tuo turno. Non si può fare il tuo turno. Non si può fare il tuo turno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.